Per i governi occidentali è l'ora di tornare al dialogo a Kiev. La diplomazia internazionale guarda con apprensione alla degenerazione di una crisi che rischia di sfociare in guerra civile. Il capo della diplomazia europea, Catherine Ashton. Invito il presidente Yanukovych, il governo, insieme ai leader dell'opposizione, a trovare subito una via d'uscita per risolvere con il dialogo questa crisi politica. Come ho detto in una delle mie recenti visite, l'Unione Europea è pronta ad aiutare in tutti i modi possibili. Il ministro degli Esteri tedesco ha agitato lo spettro di possibili sanzioni se le violenze continuano. Coloro che possono prendere le decisioni utili ad evitare ulteriori spargimenti di sangue lo facciano. Altrimenti la decisione presa su sanzioni ad persona ma verrà riconsiderata. Il vicepresidente statunitense Joe Biden ha fatto appello a Yanukovych per ritirare le forze di polizia dalla piazza. Per la Casa Bianca la soluzione della crisi non sta nel muro contro muro. Siamo scossi dalle violenze che stanno attraversando Kiev e dalle notizie che giungono dalla piazza di Maidan. Continuiamo a condannare gli scontri e l'eccessivo ricorso alla violenza da entrambe le parti. La forza non risolverà la crisi. La forza non risolverà la crisi. La forza non risolverà la crisi. La forza non risolverà la crisi.